Evitare una Pescarexit per questo bisogna prefigurare. Lo ha evidenziato il senatore Luciano D'Alfonso nel giorno della presentazione dell'evento internazionale che si terrà martedì prossimo a Pescara. L'appuntamento è per le ore 16.30 al Museo dell'Ottocento per la cerimonia inaugurale. Poi alle 17 presso la sala consigliare di Palazzo di Città il convegno internazionale Nuova Pescara, la città senza confini al centro dell'Europa Adriatica. Tra gli ospiti i sindaci di Tirana e Atene, oltre al ministro degli esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, tra gli obiettivi quello di agganciare il progetto di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore al destino dell'euroregione Adriatico-Ionica. Questa città nuova richiede una riorganizzazione territoriale dietro di sé ma anche in Adriatico, anche rispetto all'Europa nuova, anche rispetto alle macro-regioni. Ecco, voglio mettere in evidenza però che da questo giorno, dal 14 di luglio, noi ci attiveremo anche per dotare di norme nuove questo cantiere. La prima norma riguardante la possibilità per i consiglieri comunali di partecipare agli organi collegiali nuovi e poi ci doteremo di una pianta organica nuova dedicata della nuova città, che riconosca il lavoro in più al personale proveniente da Montesilvano, da Spoltore e da Pescara. Sarà un lavoro gigantesco quello che dovranno fare i dipendenti. Noi lavoreremo per fare in modo che lo Stato si accorga della potenza di questo progetto. Faremo in modo che la provincia di Pescara abbia anche una specifica di funzioni. Abbiamo già ragionato col direttore generale della provincia di Pescara, col ministro degli interni, siamo stati alla direzione generale del ministero degli affari regionali per trovare un riconoscimento anche normativo per il ruolo che dovrà sborgere la provincia di Pescara rispetto a questo nuovo aspetto sfidante.